Cari amici, eccoci qua, un saluto da Giuseppe Davidis. Sarà una giornata caratterizzata da variabilità. Variabilità per nuvole in transito a tratti da ovest verso est. E proprio perché ci sarà questa alternanza tra nuvole schiarite, annuvolamenti, sole, quindi variabile, ci sarà a tratti dell'instabilità. Con dei rovesci di pioggia o isolati temporali che transiteranno appunto a fasi alterne in maniera irregolare. Quindi il tempo, non ci saranno assolutamente dei rovesci di pioggia dappertutto, però il tempo rimane inaffidabile. Questa è la previsione cari amici, non ho altro da aggiungere. Io, come al solito, vi auguro di trascorrere una buona giornata, buon proseguimento d'estate. Arrivederci.